Buongiorno a tutti, buongiorno. Che emozione, bello essere qua oggi, bello. Se 15 anni sono serviti per fare questo, allora sono stati ben spesi. Bello, veramente bello. Allora, riflessione, riflessione. Stiamo vivendo un'era di forti transizioni ambientali, tecnologiche, sociali. E queste ci stanno condizionando, condizionando molto, tant'è che l'elemento che praticamente ci attraversa nella nostra vita quotidiana è proprio la interdipendenza, interrelazione che abbiamo l'uno con l'altro. Semplicemente con il singolo, con la collettività, l'azienda, con il territorio, l'uomo, con il pianeta. Il Covid, la pandemia, ce l'ha stressato tutto questo concetto. Ce l'ha reso ancora più forte. E ne dobbiamo fare tesoro. Ed è proprio la risoluzione di questa interrelazione. Uso anche la parola dipendenza, proprio per umilmente riflettere su questo. È la vera sfida. Riuscire, cioè, a superare questo, facendola diventare da sfida un'opportunità, un'opportunità forte che non dobbiamo e non possiamo perdere. I giovani, i nostri figli, ce lo chiedono. Non è questione di PNRR. Grazie. È una necessità. E come si fa? La strada è la sostenibilità, ce lo siamo detti. La sostenibilità piena. La sostenibilità nel senso di planet, people, prosperity, quindi economica, ambientale e sociale. Detta in logica di impresa è passare da un capitalismo degli shareholders al capitalismo degli stakeholders. Sì, facile dirlo, ma come si fa? Si richiede un approccio nuovo, una visione nuova. Qualcuno dice, va bene, sono ovviamente superati le logiche vecchie di ragionare per silos verticali. Quante volte ce lo siamo sentiti dire. Allora dobbiamo ragionare per filiera? No, non basta più. Dobbiamo ragionare per cluster? No, non basta. Sistema. No, non basta più nemmeno il sistema. È il sistema dei sistemi che dobbiamo affrontare. Ancora più complicato e complesso. Il sistema, ad esempio, sistema produttivo. Come si rapporta con il sistema della ricerca? Come si rapporta con il sistema della pubblica amministrazione? Faccio una similitudine. È come, prendendo a riferimento il corpo umano, il sistema nervoso, il sistema muscolo-scheletrico, gli apparati e gli organi, non hanno senso a sé stante, da soli, anche se funzionano. La loro scopo è far il benessere dell'uomo. Insieme funzionano. E insieme l'uomo ne ha il beneficio. Banale, no? Talmente banale che ce lo dimentichiamo. E siamo spesso, ognuno di noi, concentrati sul nostro riferimento, sul nostro ego. O sulla nostra area di azione. E tra l'altro, tutto questo che cosa richiede? Richiede, alla fin fine, la capacità di poter, quindi, gestire, in modo più completo, quello che io chiamo, ormai da tempo, ma l'avete sentito dire, pensiero sferico. Un pensiero globale, che copre e abbraccia tutti i vari aspetti che ci circondano. Quindi, e poi praticamente, mettono insieme la tecnica con l'etica, la produzione con l'arte. Qui oggi, questo è un evento sferico. Questo è un evento sferico. E su questo, cosa vuol dire? Sapersi aggregare. E Brescia, lasciatemelo dire da Toscano, che ormai da 16 anni abita qui, e solleggere e vedere, ha già dimostrato di saperlo fare, questa fase di aggregazione, di sistema, ad esempio l'albero della vita, è stato un esempio straordinario, ma anche l'idea stessa che Brescia ha avuto anni fa di darsi delle realtà particolari, nuove, inclusive e plurali. CSMT, lasciatemelo dire, i Next Hub, il Centro Sviluppo della Sostenibilità. Sono straordinarie. Ora, la missione futura, anche questa è una missione bellissima. Cosa vuol dire? Brescia è in grado, è in grado di darsi queste forme di aggregazione con scopo collettivo e sociale. Basta metterle a questo punto a frutto. Il CSMT, nella sua capacità di fare rete, con i suoi partner che ha nel campus universitario, l'università, il CNR, l'Enea, gli spin-off, le start-up, e poi la stretta collaborazione con AQM, straordinaria, e anche con le altre capacità di rete, con le altre collaborazioni, con le rete che facciamo, è umilmente un piccolo esempio, piccolo, nella dimensione, spero, non nel potenziale, di poter fare approccio sferico e poter servire proprio per innescare, se entra in sintonia, in fase, fra tutti noi, questo processo di rinnovamento. Questo è possibile. Per fare questo è un fatto culturale, ne siamo consapevoli, tant'è che ben sei anni fa, il CSMT, con AQM, poi con SMAE e con ISFOR, abbiamo lanciato un master, manager per l'eccellenza, proprio per formare manager di nuova generazione, che avessero questa visione, questa capacità di gestire il globale, di gestire lo sferico. È una complessità assolutamente enorme, grande. Allora, qual è quindi il passaggio? Il passaggio è riuscire a far sì che tutti insieme riusciamo, come ha detto Emidio in apertura, fare insieme innovazione sostenibile. Il fare, non sono certo io, dicevo, insegnarlo a voi presciani, l'insieme, ce lo siamo detti, l'approccio sferico, un approccio globale, un approccio che è nuovo, finalmente nuovo, di aggregazione. E l'innovazione, a questo punto non serve un'innovazione to cure, è inutile avere delle idee se puoi scoprire dopo che queste non rispondono ai criteri della sostenibilità e ad esempio hanno un alto footprint, un alto impatto ambientale, è deleterio, tanto vale averle buone alla prima. E come si fa a averle buone alla prima? È complicato? Certo che è complicato perché bisogna avere le conoscenze, la consapevolezza. Ognuno di noi, lo dico da ingegnere, da chi l'ha fatto per anni, animati da buona fede, da buone intenzioni, è chiaro che non possiamo avere lo scibile globale, nessuno. E allora l'unica soluzione qual è? Aggregarsi. E quindi ad esempio mettendosi nei panni ad esempio di un ingegnere che deve progettare una pompa dell'acqua per dire un prodotto qualunque, non un prodotto ad esempio come può essere una pala eolica che già la sostenibilità è più vicina, ma un prodotto quotidiano, è chiaro che lo deve fare con un approccio nuovo, quindi deve sapere certo di materiali, di fluidodinamica, ma o lo sa lui o c'è accanto qualcuno che gli parla anche che impatto ha la sua decisione sul footprint e sull'ambiente. Quanto è il life cycle assessment di questo prodotto? Fino a poco tempo fa non sapevamo nemmeno il significato di queste parole, non sapevamo il significato di Overshoot Day. Oggi la consapevolezza, grazie a Dio, è aumentata, ma ci rendiamo conto che siamo solo all'inizio, stiamo balbettando di sostenibilità. Meno male che però c'è almeno la consapevolezza di doverlo fare, di doverlo fare. Il problema a questo punto è come fare a renderlo stesso, come fare a renderlo strutturato. e lì ci viene in aiuto il rinascimento, perché l'innovazione sostenibile deve essere gestita come fu gestita l'arte nel Cinquecento. Non fu il frutto del caso, ma fu strutturalmente voluta dai signori del tempo, creando delle botteghe che erano dei centri di eccellenza, di sperimentazione e di formazione, strutturata, radicati nel territorio che facevano forte il territorio. Collaboravano fra di loro e formavano il Verrocchio e il Leonardo, il Leonardo, il Gian Giacomo Caprotti, e poi i loro allievi, gli allievi che sono andati in giro per il mondo, Leonardo in Francia, Bernardino Luini in Svizzera, e altri a Venezia, Giovanni Agostino, mi ricordo il Cesare de Seu a Napoli, quindi discepoli del nuovo, che hanno durato per decenni e tuttora ne stiamo beneficiando, ma non erano il frutto del caso. Allora, mutatis mutandis, sfruttando la stessa similitudine, io dico che oggi l'innovazione sostenibile deve essere voluta, strutturata, così come fu allora l'arte, tramite dei centri che svolgono questa funzione di aggregazione, per fare sperimentazione, per fare condivisione, per fare cultura, quindi formazione, in modo tale che rimanga strutturato. non basta quindi semplicemente dirsi lo voglio fare e sentirsi, mettersi, lasciatemi dire, la coscienza a posto. Non è solo questo, non basta. A questo punto, quindi, il concetto di riuscire a passare una volta per tutte, sfruttare questo momento. E credo che l'Italia, e lasciatemi dire, in particolare, Brescia, ha un vantaggio, sicuramente rispetto all'America, sicuramente rispetto alla Cina. Lo ha detto questo anche, l'ho sentito dire, Ale Cross, uno storico americano, tra l'altro, di origine abruzzesi, che è stato assistente di Obama prima, e di Hillary Clinton dopo, che dice che il vantaggio che proprio ha l'Italia, è proprio questo legame forte, con il territorio, sia a livello culturale, storico, nel DNA, sia pensando all'assetto industriale. Le grandi, le medie imprese, hanno assunto da generazioni dipendenti, hanno fatto asili nido, scuole, ma anche le migliaia di piccole aziende, in realtà, imprese, anche a conduzione familiare, che sono il tessuto connettivo, che rendono forte il legame con il territorio. Il saper fare, la manifattura, vuol dire trasformare la materia prima, e questa è un'occasione straordinaria proprio di legame con il territorio. Anche se non hai la materia prima, la ricicli, anche questa è una forma di legame con il territorio. E Brescia questo vantaggio ce l'ha, e lo può sfruttare, appieno. Un ultimo riferimento, ad esempio, anche in merito alla nuova tecnologia del metaverso, straordinaria, intelligenza artificiale, bellissimo il potenziale, va saputo giustamente, sanamente, diciamo, controbilanciare con il saper fare, con la mano. La conoscenza umana avviene attraverso il contatto mente-mano. Non si può dematerializzare la conoscenza, sarebbe, credo, depauperare l'umanità. Quindi, il sano bilanciamento tra questa tecnologia straordinaria del virtuale, che utilizziamo anche noi con i nostri ingegneri tutti i giorni, ma sanamente controbilanciata con il saper fare, con le mani che hanno creato bellezza, che hanno creato emozione, e ne abbiamo ancora qui le vestigia. Questo è il sano bilanciamento che va saputo fare. quindi collegamento con il territorio e Brescia, questo collegamento con il territorio in tutte le sue forme, ce l'ha forte, è chiaro. A questo punto, il CSMT. Il CSMT, in questi 15 anni, chiaramente, ha avuto dei momenti non facili, ma oggi, oggi è forte, forte dei risultati ottenuti, ma forte soprattutto della mente e dell'entusiasmo delle persone che lavorano all'interno del CSMT. Sono giovani, giovani ingegneri, fisici, biofisici, esperti di intelligenza artificiale, di IoT, esperti di economia circolare, di valorizzazione di scorie e di project funding, finanziamento di innovazione strategico, ma soprattutto sono esperti nel fare rete. Sono anni che collaboriamo e lavoriamo con gli altri, aggreghiamo, sono anni che stiamo facendo palestra di pensiero sferico. Questa è la dote che portiamo e rendiamo a disposizione di Brescia. Ed è proprio oggi, dopo tutti questi anni, come se fossero stati anni di palestra, per farci ancora più forti, ancora più pronti, siamo oggi pronti, anche con un volto nuovo, un'immagine nuova, un rebranding nuovo, a poter supportare Brescia e il territorio in questa volontà unita di darsi una strada nuova, di darsi un progetto importante, un progetto aggregante, in modo tale che possiamo dire ai giovani che ci ascoltano, ai nostri figli, che un mondo migliore, un mondo più giusto, un mondo più sano, un mondo tondo, non è un'utopia, non è un sogno, ma è possibile. Aspetta a noi concepirlo, a noi farlo. grazie. Applausi Grazie. 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 Grazie.